Noi di Engie vogliamo guidare la transizione energetica e per farlo l'aiuto di giovani e promettenti studenti è fondamentale. Siamo qui oggi in fiera all'Hackathon The Elite, evento organizzato da InnoEnergy, università che ha l'obiettivo di avvicinare giovani talenti al mondo delle imprese. Per questo abbiamo proposto ai nostri studenti una challenge, challenge su una tematica fondamentale ossia la decarbonizzazione delle nostre infrastrutture. Il caso studio era molto concreto, per tre giorni hanno lavorato a proposte per decarbonizzare un nostro impianto di teleriscaldamento in Lombardia. Hanno fatto con il nostro supporto delle proposte molto innovative e di alta qualità. Per la squadra vincitrice ci sarà in palio un talent assessment con il nostro team delle risorse umane. I'm here today to be a part of a hackathon provided by my program InnoEnergy. So our solution here was to use excess heat which is available in the cities to basically decarbonize the district heating plans of Sinisello. So I think what's innovative is that we really looked into the needs, the resources that we had and made it possible to integrate as a first step as it is right now. All right! Grazie a tutti.